Dopo aver aggiunto una soluzione di soffatto di rame ad idroste di sodio e acetaldeide, si scalda questa miscela a bagno maria. L'acetaldeide riduce il rame 2 a rame 1 e si forma una soluzione gialla di idroste di sodio, scaldando precipita ostre di rame 1 di colore rosso. Grazie a tutti.